Il tempo di Pasqua si conclude con la grande solennità della Pentecoste e ritroviamo Padre Ernesto della Corte. Buona Pasqua della settimana o buona Pentecoste? Buona Pentecoste a tutti quanti voi. Io direi che il tempo della Pasqua, Luca qui è molto preciso, dice che viene portato a compimento. La Pentecoste è il compimento della Pasqua, quindi è come dire, la Pasqua al cubo, proprio il momento culminante della Pasqua. Non dobbiamo dimenticare che nell'Antico Testamento, quando andiamo a leggere il capitolo 19 dell'Esodo, proprio a primo versetto, nel testo ebraico si parla della terza luna nuova. In verità le nostre traduzioni dicono al terzo mese, ma noi dimentichiamo che il mese ebraico è un mese lunare e quindi luna kodesh indica la luna e il calendario anche lunare. Quindi alla terza luna nuova in realtà sono 49 giorni più uno e quindi 50. 50 si dice Pentecoste. Ecco la Pentecoste. Che cos'è nell'Antico Testamento la Pentecoste? È il dono della legge che Dio fa a Israele sul Monte Sinai. Le famose dieci parole, i dieci sentieri che noi chiamiamo comunemente i dieci comandamenti. Dopo la Pasqua, 50 giorni dopo, noi cristiani celebriamo la Pentecoste che è il dono dello Spirito Santo, quel paraclito che Gesù ci aveva promesso. Io vado via ma vi lascio un altro paraclito. Quindi Gesù è il primo paraclito, il secondo è proprio lo Spirito. Sia Gesù che lo Spirito sono paracliti. Che vuol dire? sono intercessori, sono avvocati che ci assistono davanti alla presenza del Padre. E oggi in occasione della Pentecoste torniamo a meditare di nuovo il Vangelo secondo Giovanni. Siamo sempre in quel capitolo 14 che narra innanzitutto di questa partenza di Gesù. Gesù sta annunciando loro che deve andare via. Lo dicevamo qualche settimana fa, tra i discepoli c'è stato un brusio, un momento di indecisione e si sono sentiti orfani. Non vogliono essere lasciati da Gesù. Invece Gesù li invita ad avere fiducia. Ancora una volta, vedete, è sempre il problema della fiducia in lui, che è fede. Abbiate fede in me. Dobbiamo essere di fedele. Dobbiamo fidarci di quella parola. Non diremo mai abbastanza su questo, eh? Fidarsi di Gesù Cristo. Lui è l'unico davvero fedele. Lui veramente non ci delude mai. E cosa dice Gesù? Io vado a prepararvi un posto, una dimora. Che vuol dire qui la dimora? Un luogo sicuro. Il termine in greco deriva dal verbo meno, rimanere, che nel quarto Vangelo ha veramente un senso tutto speciale. È il rapporto tra Gesù e il padre. Per cui, che vuole spiegare Gesù ai discepoli? La partenza di Gesù permette ai discepoli di entrare, per questo dono che è concesso, in intima comunione con il padre, grazie al figlio. Per cui l'Evangelista non pensa a quella che poi sarà la dimora definitiva dopo il giudizio. Ma già adesso, ci dice Giovanni, Gesù offre la partecipazione a entrare in questa relazione salvifica, ma anche umanizzata. Allora la dimora, la monè, in questo senso che vuol dire la dimora? Vado a prepararvi una dimora. Vuol dire che il credente, grazie all'azione dello Spirito Santo, osservando la parola che Gesù ci ha dato, diventa la dimora in cui abitano le tre persone della Trinità. Ecco perché Cristo coniuga il verbo amare con il verbo osservare. Se andiamo a vedere nei versetti dal quindicesimo al ventiquattresimo, per ben quattro volte noi troviamo questi due verbi che si rincorrono, amare, osservare. I discepoli possono amare Gesù nella misura in cui osservano, custodiscono i comandamenti, che sono in parallelo anche con i termini parola e parole. Per cui assumono un significato non di precetti morale, ma le parole che Gesù ci danno, che poi è la sua parola, sono l'insieme della rivelazione, che è la parola del Padre. Questa parola che è Gesù Cristo trasmette la vita e l'amore scambievole adempia la legge. Direi quasi che l'amore scambievole, quel comandamento nuovo di cui abbiamo già parlato, adempia la legge ed è una sintesi mirabile. Per cui il loro dello Spirito Paraclito è quello di accompagnare i discepoli. Direi che davvero la sua missione è quella di accompagnarci, perché innanzitutto non si sentano orfani, anzi grazie alla presenza dello Spirito i discepoli in ogni tempo, in ogni luogo possono sperimentare la presenza di Dio dentro e tra di loro, perché lo Spirito è lo Spirito di verità, ma la verità è Gesù Cristo e quindi è lo Spirito di Gesù, è l'unica verità. Chi ama Gesù osserva la sua parola e Gesù e il Padre fanno dimora presso di lui. Ecco allora l'avvertimento, il consiglio, direi, ad annunciare la parola. Quanto è importante. Paolo aveva detto che se non c'è l'ascolto della parola non c'è fede. Dobbiamo annunciare la parola, perché la parola è salvezza e farlo senza indugio, così che il mondo degli uomini, quel cosmos che abbiamo commentato l'altra domenica, possa cambiare mentalità, entrare in questa comunione trinitaria, passare da quel peccato, da quella notte, da quel dominio a una comunione piena. Ecco perché Gesù svela che il primo compito che lo Spirito deve realizzare in noi è quello di insegnare. Che bello, lo Spirito è il nostro maestro interiore. Poi il secondo compito di farci ricordare le parole di Gesù. Il terzo ce le fa interpretare e il quarto le attualizza. Per cui davvero quest'opera meravigliosa, insegnare, ricordare, interpretare, attualizzare, è così che i discepoli rimangono nella comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco perché abbiamo bisogno in ogni Pasco della settimana, ogni giorno, di ritornare sempre a quei pascoli ubertuosi delle scritture, perché le scritture sono il tabernacolo della parola di Dio. Se non torniamo ogni giorno a meditare, a riflettere sulle parole che le scritture ci consegnano, ci viene meno il dono dello Spirito e viene meno quest'opera di insegnamento. Possa il Signore oggi, con la Pentecoste, mettere dentro il nostro cuore questa grande convinzione. Ripartiamo dall'ascolto. Maria, arriviamo a vivere questa parola come Marta. È un itinerario continuo da fare giorno per giorno, fino a quando il Signore ci chiamerà a guardarlo faccia a faccia in quella vita eterna che tutti quanti noi aspettiamo come un dono meraviglioso. E lo Spirito Santo agisce su cuori che si lasciano lavorare, se vogliamo. Dobbiamo fare sempre… l'azione di Dio è sempre un'azione che chiede responsabilità, non è un atto di magia. È un Dio che ci dona tutto, però vuole da noi il desiderio e la voglia di voler cambiare. È anche la corresponsabilità di costruire quella somiglianza con Dio. È davvero bello questo, perché come direbbe il Manzoni, nell'amore non c'è chi porge le labbra e l'altro che porge la guancia. Dobbiamo venirci incontro. Lui ci viene incontro, ma chiede a noi di andargli incontro. È così che realizziamo una comunione meravigliosa. Grazie Padre Ernesto, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a voi, buona Pentecoste. Anche a te, shalom. Shalom. Grazie a voi, buona Pentecoste.